Sono l'insegnante Antonella Millo dell'istituto comprensivo video d'orso di Mercoliano, i nostri alunni hanno partecipato al progetto che sono in classe e con i loro inaugurati intendono partecipare al concorso finale del progetto Amber Green Hour. Se dovessimo vincere, con il ricavato speriamo di acquistare del computer materiale informatico che ci è stato trafugato. Invito tutti a votare gli elaborati della nostra scuola e ringrazio Antonella per il suo in classe. Anche io come ambasciatore di Hunter ringrazio il dirigente, tutti gli insegnanti e soprattutto i bambini. È stata un'esperienza meravigliosa, mi raccomando votate per noi!